Buonasera cari telespettatori, grazie per essere sempre in compagnia di questa fantastica famiglia che è quella del gruppo editoriale TV7 e poi sono un po' emozionato perché successivamente ad iReporter per te alle 21 pensate un po' ci sarà un faccia a faccia con la cittadinanza proprio con il sindaco Bitonci qui da noi quindi assolutamente dovete gettare il telecomando in più due tematiche molto importanti mi auguro curiose per quanto riguarda invece iReporter per te dice chi è questo ragazzo elegante, mi permetto di dire ragazzo perché comunque lo sei ve lo presento subito, è il dottor Nicola Borotto che è il vicepresidente pensate di AC Padova l'automobile club italiano proprio di Padova sul territorio devo subito ringraziare per il cadeau che mi ha fatto, questa è una litografia giusto per quanto riguarda la millemiglia che è appena passata quindi grande festa per la nostra cittadinanza ok e grazie non dovevate disturbarvi grazie a voi, grazie a voi dell'invito perché se no poi uno a casa dice ah gli hanno fatto il regalo e lui niente domande piccanti non è il mio stile lo sapete di cosa parliamo? Di ACI e motorizzazione e si avanza tempo anche del PRA è fusione, è un po' nell'aria, c'è insomma questa curiosità da parte nostra vediamo un pochino di affrontare il discorso dell'ACI come funziona, quanti dipendenti, come è gestita insomma ci facciamo i fatti dell'automobile club o come direbbe mia mamma, automobile club successivamente invece andremo a parlare di un'altra tematica importantissima oggi è la giornata mondiale per la lotta contro la droga e sappiate che avremo proprio una chicca telefonica un intervento molto importante con un ufficio che si opera contro appunto la droga e il crimine si chiama ONODC ed è delle Nazioni Unite quindi per noi sarà un grande onore avere anche questa telefonica bene, restate in nostra compagnia, conoscete il programma 049 80 777 57 per le vostre domande approfittatene visto che abbiamo qui il vicepresidente dell'ACI Padova partiamo da che cos'è questa ACI Padova per chi o ACI a tutto tondo per chi non lo sapesse e dopodiché affrontiamo anche la questione se ci sarà o no o meno questa fusione prego tanto buonasera a voi e grazie dell'invito mi fa molto piacere essere qui che così discutiamo di alcune cose parliamo di alcune cose chiariamo alcuni punti l'ACI non è un ente pubblico unico è una federazione di automobili club come prevede lo statuto tutti gli automobili club sono degli enti pubblici non economici con la legge 70 del 1975 ogni automobili club ha una dimensione provinciale l'automobili club d'italia detiene anche la gestione del pubblico registro automobilistico di cui si parla molto in questi giorni il famoso pra quindi il governo vorrebbe l'idea e l'intenzione del legislatore è di unificare gli archivi l'archivio nostro è quello giuridico del pubblico registro automobilistico con quello più tecnico che è quello della motorizzazione civile dico che gli archivi nostri sono completamente diversi e tutto ciò che noi facciamo è completamente diverso rispetto a ciò che fa la motorizzazione civile tanto una premessa va fatta l'automobili club d'italia che è l'ente federante di tutti gli automobili club e gli automobili club non gravano per un centesimo sulla finanza pubblica sul bilancio pubblico quindi gli automobili club vivono con risorse proprie che sono le aliquote associative dei soci noi abbiamo all'incirca 1.300.000 o 1.500.000 soci abbiamo la proprietà, la maggioranza delle azioni della Sarsicurazioni perché tutti gli automobili club sono anche agenti generali provinciali della Sarsicurazioni quindi abbiamo le provvigioni della Sarsicurazioni e abbiamo le provvigioni, se vogliamo chiamarle così o le competenze per le pratiche automobilistiche perché gli automobili club sono stati i primi, le prime agenzie di pratiche auto quindi come mi ha spiegato Borotto dovete sapere che prima nasce l'automobile club e poi successivamente ribadiamo ancora una volta allora l'automobile club d'italia a Torino nasce nel dicembre del 1898 a Padova un mese dopo nel gennaio 1899 nasce la Cipadova fondato da una donna che era la Contessa Albrizi amante delle corse della velocità con un gruppo di amici padovani tra cui il grande e dimenticato genio Enrico Bernardi che fu l'inventore della prima auto italiana e della seconda e terza auto al mondo ancora funzionante qui presso il museo di ingegneria che stanno finendo ultimando colgo l'occasione per salutare gli amici del museo l'ingegnere Stella e l'ingegnere Dizon che sono i titolari della macchina e i detentori della macchina questa macchina ha fatto 63 mila chilometri e ha vinto le prime sette ore di velocità del mondo ma tornando a noi no ma adesso mi ha sussiccato sulla storia perché una lo so, solo questa ma chi ha acquistato la prima automobile in Italia e dove? questo non ci è dato allora la prima automobile in Italia non italiana è una Peugeot che è stata scalata nella stazione di Tiene è stata acquistata una Peugeot 2P o 3P 3P credo sia è stata acquistata da Gaetano Rossi che era il figlio di Rossi l'Anerossi l'Anerossi Vicenza l'imprenditore di Vicenza è stata la prima auto che ha camminato sul suolo è l'unico voglio vedere comunque se l'Automobile Club vicepresidente non sapesse questa cosa è l'unico pensi che io conosco tante persone di Piovene e Rocchette quindi Tiene dove c'è appunto l'anificio e loro neanche lo sapevano la macchina è ancora viva non è funzionante è ancora viva ed è detenuta presso il museo dell'automobile di Torino nostro però purtroppo non è funzionante è finita Torino è finita Torino perché è stata venduta più volte eccetera eccetera finché siamo riusciti a rientrare in possesso e quindi è a disposizione del museo dell'automobile ecco io nel mio picco insomma avevo trovato un po' questo francobollo commemorativo vediamo se riesco a mostrarlo del centenario dell'Aci esatto il centenario perfetto ci spostiamo un attimo e togliamo le varie grafiche eccolo qua perfetto ecco qua quindi la nostra realtà è una realtà formata da 106 automobile club i cui soci, tutti i soci ogni 4 anni rinnovano il consiglio direttivo locale consiglio di amministrazione locale la gestione di tutto l'automobile club e quindi dell'ente in sé spetta al direttore che è un dipendente pubblico perché è dipendente dell'automobile club d'Italia non dell'automobile club locale e dei funzionari, dei dipendenti di cosa si occupa l'Aci? l'Aci si occupa di una molteplici attività di una serie di attività innumerevoli l'Aci si occupa di sicurezza stradale di educazione stradale io penso al progetto che stiamo portando in porto in questi mesi che è rivolto agli stranieri e ai cittadini italiani che hanno preso la patente presso le nostre autoscuole con il progetto Ridi to Go dove noi abbiamo una serie di autoscuole sparse sul territorio all'interno delle quali noi e i nostri ragazzi insegniamo a guidare nel bagnato insegniamo a guidare in una situazione di pseudo pericolo insegniamo a guidare per la vita quindi noi poi facciamo tutta la volta che portiamo insegnate anche a parcheggiare le donne? sì, questo è un po' più difficile ma come non mi segua vicepresidente? questo è un po' più difficile la mia è una battutaccia devo dire che le donne guidano meglio degli uomini perché noi abbiamo anche proprio qui a Padova abbiamo delle campionesse italiane di rally nazionali e internazionali e europei che fanno invidia ma si era per fare lo sciocco lo sanno tutti anche a livello di incidenti e tutto sono loro le più prudenti sono le più prudenti le più serie e le più prudenti devo dire che questo progetto Ridi to Go noi quando facciamo la selezione dei migliori ragazzi che abbiamo presso le nostre autoscuole poi li portiamo gratuitamente presso il centro di Vallelunga che è di proprietà che è un'eccellenza europea, internazionale meravigliosa alle porte di Roma dove facciamo fare ai ragazzi un ulteriore corso di guida in sicurezza di educazione stradale di scuola di pilotaggio e via discorrendo tutto questo sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri quindi lei e dopo ci addentriamo di nuovo nel discorso naturalmente condivide il fatto di aver applicato adesso la normativa di se vuoi andare col cinquantino quindi sto parlando dello scooter del motorino devi fare il patentino assolutamente sì perché i ragazzi in generale non hanno cognizione di causa per quanto riguarda la ricolosità la cartellonistica tutto quello che è assolutamente sì e presso le scuole e presso le autoscuole che ci sono sul territorio o le autoscuole nostre aggiungo che noi sono anni che chiediamo il presidente nazionale ovviamente è il portavoce istituzionale nelle istituzioni nazionali a cui tutti i presidenti fanno capo e che colgo l'occasione di salutare assieme al segretario generale per il meraviglioso lavoro che si sta facendo in questi ultimi tempi anche per dare una rilevanza ai cittadini del PRA e spiegare perfettamente che cos'è il PRA però detto questo noi sono anni che stiamo discutendo con le istituzioni per far sì che tutti i patentati dopo 5 o 10 anni di patente abbiano l'obbligo di effettuare dei corsi di formazione propria per educarli alle nuove normative che nel frattempo da quando uno ha conseguito la patente a quando uno la deve rinnovare dopo 5 o 10 anni sono intervenuti talmente tante variazioni legislative e normative diverse per cui uno non è più aggiornato non è possibile in Italia che noi abbiamo dei patentati da 40 anni da 50 anni da 30 anni che dopo che hanno superato l'esame di teoria e di pratica non abbiano nessun obbligo di fare nessun tipo di corso di formazione cioè una specie di rinnovo esattamente allora noi abbiamo bisogno non mi spaventi presidente perché io quell'esame lì l'ha sofferto però noi abbiamo bisogno di portare nelle nostre quelle scuole un corso obbligatorio non magari con un esame finale ma comunque con una verifica finale per spiegare i nuovi segnali europei che continuano a cambiare da una parte è giusto e doveroso dall'altra sai quanti poi perdono la patente ma tanti ma credo molto pochi perché se noi li abituiamo avevo fatto un gioco così sono andato con la mia telecamera in giro per la città e mostravo delle fotocopie a colori dei vari cartelli sono uscite le peggio cose da gente patentata ma vede che conferma la nostra tesi infatti ho detto infatti la questione era proprio questo il fatto se c'è bisogno o no se c'è bisogno di un aggiornamento e nasceva proprio schietto il fatto del sì però io infatti adesso ho detto ma sa compreso sottoscritto quanti poi non passano l'esame e lei dirà meglio così perché tu comunque poi metti a rischio la tua e quella degli altri in colonità questo sicuramente anche se sono convinto che accompagnando con dei tutors insegnando con molta pazienza e anche con molto amore e molta passione perché ci vuole amore e passione per insegnare nelle auto scuole insegnare educazione stradale tutti riescono a superare l'eventuale l'eventuale corso di formazione corso di aggiornamento però volevo tornare un attimo se lei mi consente al pra allora dicevo prima gli automobili club come l'aci nazionale non grava sulla finanza pubblica come il pubblico l'istituto del pubblico registro il pubblico registro non grava e perché leggiamo sui giornali il carrozzone acci non è vero perché 3.000 dipendenti un sacco di spese non è non è non è proprio così mi ricordo possiamo darci tranquillamente non ci sono problemi intanto c'è da dire la funzione quella anche sociale che ha il pra il pra è l'achivio del pubblico registro automobilistico registra ciò che gli altri certificano in tutti i sensi perché dico questo perché alla base di tutto questo ci sta una legge che è la legge sui beni mobili registrati per cui chi possiede una macchina diventa proprietario della macchina alla stregua della proprietà di un'abitazione o di un terreno con la stessa identica disciplina questo che cosa prevede che l'istituto del pra quindi l'archivio giuridico che noi abbiamo sia parificato all'archivio che hanno la conservatoria di registri immobiliari allora che sovraintende al pra da sempre da quando è stato istituito è il ministero di grazia e giustizia noi una volta all'anno nei nostri uffici provinciali abbiamo il procuratore capo della repubblica che viene in ispezione a verificare che l'archivio sia tenuto seconda una determinata regola che i fessicoli siano a posto e che le registrazioni siano fatte che non ci siano magheggi che non ci siano problemi insomma che tutto sia tenuto a regola questo serve anche lo sottolineo per certificare e aiutare quindi il cittadino quando ci sono dei passaggi a auto piuttosto che che non vada a finire poi in grana del tipo tu non lo sai compri una macchina che è rubata e nessuno l'ha mai registrato nessuno sa niente tutte cose del genere giusto? assolutamente sì lancio la pubblicità mentre parlavi mi è venuto in mente il famoso bollo auto cioè perché si parlava di possesso di tasse varie e c'è una diatriba molto forte su sta cosa della tassazione che è regionale sul fatto che tu comunque hai già pagato delle tasse sul possesso di un'auto e poi ti tocca pagare ogni volta anche questo bollo regionale ma non sei tu la persona a cui forse porre questa domanda ma qualche risposta poi te la va lancio la pubblicità approfittatene se vi va di fare delle domande noi siamo qua altrimenti ascoltateci tranquillamente che ci fa già piacere così lancio la pubblicità vi aspetto